E ragazzi come va? Io sono Ferinichi Io sono Steph e quest'oggi giocheremo a Spor E iniziamo subito a salutare i nostri 5 eroi del giorno Che per oggi sono Keco Games, Siri The Show, Gatta TV, Queen Blackberry e spero di dirlo bene Fatima Indiane Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione Come potete vedere la votazione l'ha vinta Spor con 56 voti contro i 40 di The Escapist Abbiamo apprezzato tantissimo tutti i commenti che ci avete scritti Le abbiamo contati uno a uno ed è stato bellissimo Ci abbiamo messo una vita a contarli, ci abbiamo messo una vita Ma è stato bellissimo vedere così tanto interesse per questi due giochi Infatti sicuramente inizieremo anche di Escapist Dato che ho notato molto interesse verso questo gioco Penso che possa piacere e probabilmente lo inizieremo quando finisce YouTuber's Life O quando facciamo meno episodi di quello La maggior parte di loro aveva scritto nei commenti Vi voglio vedere giocare di Escapist perché impazzirete perché è molto difficile Lo so, lo so, io avevo provato a giocarci Avevamo fatto anche un video nel vecchio canale È difficilissimo, è difficilissimo Però penso che possa essere molto divertente da fare tutti assieme In ogni caso si inizia con Spor e ti devo dire subito una cosa Cosa? Che succede? Siccome ogni volta mi trascini in dei video Dove torturiamo la gente Non è vero L'ammazziamo, ci vendichiamo, conquistiamo cose Questa volta devi prendere la mia filosofia di vita di calma Di essere gentili e carini con tutti E creeremo una specie che si chiamerà ovviamente Stereniki Vegetariana che dovrà portare pace e amore in tutto l'universo Perché? Perché dobbiamo fare così Devi seguire la mia lunghezza d'onda per una volta Ma, cioè, tu mi stai dicendo che poi quando diventeremo una tribù Non possiamo attaccare, non possiamo distruggere tutti Saremo la tribù più carina che è amica con tutti Quindi faremo balletti, canteremo, faremo di tutto per essere amici di tutti Non possiamo neanche mangiare le altre specie e solo mangiare foglie Esatto Non mi piace questa idea Allora, partiamo dalla fase cellula ovviamente Quindi siamo dei bellissimi erbivori Che carini Il tema non so bene che cosa sia Non abbiamo temi, iniziamo così, non lo possiamo modificare No, lo modifichiamo più avanti, dai, più avanti Ok, ok, ok E mettiamo difficoltà normale Perché è difficile, se dobbiamo fare i pacifici eviterei E il nome ovviamente è Stereniki Porfiva Stereniki, Steren... no, cosa scrive? Scusami, ok Stereniki, sì, ormai tutto si chiamerà Stereniki in sto canale Dai, dai, continua Ecco, ci stiamo nascendo? Sì Siamo noi? Sì Oh mio Dio, che carini Guarda, da una pietra Uuuuh Ok Isporresti tu a plasmare il futuro con le tue scelte Quindi, vedi, è fighissimo Praticamente in base alle nostre scelte cambierà anche il gioco Esatto Siamo nel brodo primordiale Dobbiamo riuscire a sopravvivere con i mezzo E ad evolvere la nostra specie Per riuscire ad arrivare nella terra Perché adesso siamo nell'acqua Siamo una cellulina piccolina Mi piacciono troppo queste cose A me queste cose Questi giochi in progressione Lo so Bisogna migliorare Essere sempre più forti Mi piacciono tantissimo Ok Vabbè, la barra dei progressi lo sappiamo Qual è I punti poi ci permettono di evolverci Esatto Come i Pokémon Come i Pokémon Non è molto diverso Quindi andiamo subito a esplorare questo mondo acquatico E trovare le erbette Tanto noi dobbiamo mangiare solo piantine al momento Per la tua felicità non mangiamo carne Mangiamo queste belline e palline verdi Che poi in effetti Cioè Io preferirei essere Mangiare solo verdure Capito Però Qua sarebbe stato bello Distruggere Almeno nei giochi concedimelo Cioè non so Nella realtà non lo farei mai ovviamente Ma nei giochi Guarda Mi dispiace Questi secondo me sono carnivori Stai attento E lo so Lo so Aiuto Sto cercando di morsicarci la codina Esatto Ci vuole strappare la codina Che è gelosa Perché è troppo bellina Che succede? Che succede? Ok Quel cosa è gigantesco Ma guarda Lo sto facendo fuori Tu volevi essere così Allora Questi me li ricordo Sono i frammenti di meteora Che ci permettono di potenziare La nostra specie Quindi Vedi Qua stiamo guadagnando Penso che sia una culeo Esatto Aiuto Tento Tento K Non morire adesso Eh ci sto provando No Non può finire così il nostro video Muoviti Guarda quello Guarda quello Guarda quello laggiù Quanto è gigante Aiuto Oddio Ok Allora Dobbiamo subito Evolverci un pochettino Quindi cerchiamo il nostro partner Facciamo i versettini D'amore Questi siamo io e te Allora No Guarda No Con i cuoricini Siamo io e te Ci facciamo i balletti Siamo io e te In un mondo parallelo Perché in questo mondo Non potrà mai succedere Ma guarda che carini Non ti potrò mai fare i cuoricini No No mi dispiace Guarda sei insensibile Comunque Volevo dire una cosa Allora noi potenziamenti Li guadagniamo tramite i frammenti di meteora Ok E ci ho fatto vedere che il frammento di meteora Appare quando si mangia un'altra specie Ma noi che siamo herbivori Come facciamo? Cioè dobbiamo aspettare Qualche carnivoro che mangi qualcun altro O così Oppure dobbiamo usare i pungiglioni Che ci stiamo per mettere Per ammazzare qualcuno E procurarci così i frammenti E allora non siamo proprio herbivori Allora mi piace sta cosa No diciamo che Noi non Ammazziamo Ammazziamo Stavo per dire Uccidiamo tutti Che noi Non ammazziamo per divertimento Ammazziamo per difenderci Tipo quelli che ci inseguivano Le ammazziamo Perché ci vogliono ammazzare Allora facciamo così Tu la prendi come cosa Capito? Per sopravvivere Io la prendo per divertimento Quindi Vedi è perfetto Sono felicissima Finalmente arriva il mio momento Ok allora Guarda come ci stiamo attrezzando A dovere Ma è bruttissimo Eh lo so Scusami Allora io sto notando nei giochi Perché questo è un problema Scusa se mi sto dilungando Però vorrei far presente Questi problemi Che facciamo schifo Nel creare Sei personaggi Che nel costruire le cose Io ti farei notare È davvero brutto È davvero brutto Cioè non possiamo farci nulla Dai appena nato Poverino Però adesso lasciamolo così Guarda A colore glielo possiamo cambiare Sì Ti posso concedere infatti La scelta del colore Il colore Voglio qualcosa di particolare Oh mio dio di questo colore È troppo carino Arancione e blu È bellissimo Sì È troppo carino È troppo carino Adesso però dobbiamo fare una cosa Abbiamo il nome della specie E la descrizione Quindi io mi voglio divertire un po' Allora Nome della specie è sempre Stereniki Ovviamente Allora Stereniki Il grandissimo Stereniki Conquisterà il mondo In tutti i giochi Descrizione Allora Stereniki Steren mole Ma ce n'è questo Steren mole Non c'è Sbaglio scrivendo Perché col microfono Non vedo la tastiera È sbaglio Non è colpa mia Non so scrivere senza guardare Quindi Stereniki Sei scarso È una bellissima specie È una bellissima Ok specie Specie di Che cos'è Di cellula primordiale Di cellula Guarda Qua abbiamo i paroloni Che è Ama il mondo E le verdure E le verdure E le verdure Però E sogna No devi mettere un punto E le verdure Ok Non fare discorsi brutti Sogna Sogna di portare Amore e pace Nel mondo La distruzione No Quindi Si impegnerà Io non ci credo Che ti scrivendo questa cosa Per Riuscire nella sua impresa Si va bene Ok Per riuscire Nella sua impresa Ok Allora Le etichette Tu mi devi mettere Morte Pace Distruzione Amore E vendetta Generosità Sto sbagliando Ok Io rinizio una serie Da sola Senza di te Perché non mi piace Non mi piace È perfetto Dai Non hai ascoltato Neanche mezza Delle cose che ho detto Non va bene Ma non potevo Senti le cose Che stavi dicendo Cose giuste Scusami È un momento importante Allora Siamo nella preistoria Credo Perché questa Secondo me È la preistoria No È prima della preistoria Lascia perdere la preistoria Non dire queste cose Che non sei brava Se tu conosci la legge di Darwin Darwin Ok Tu non la conosci Sopravvive solo più forte Quindi non possiamo essere Delle mammolette Che si fanno pappare Da tutti gli altri Infatti guarda come Pungo È pronta Guarda Non ci riesci Visto Uh gli hai fatto un sacco di danno Lo so Te l'ho detto Ma io voglio quella cosa che ha lui È fighissima Guarda come corre Lo so ma non l'abbiamo trovata Non troviamo frammenti Guarda quante alghe Qua facciamo una mangiatina Che poi noi diciamo verdure Ma in questo caso sono alghe Esatto Mangiamo le alghe Ma il nostro obiettivo adesso Più che crescere È trovare i frammenti Perché dobbiamo migliorarci un po' Però guarda quanto cibo troviamo Scusa Io trovo tutto questo cibo E non l'ho mai No 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 Allora Devi stare calmo Ascolta Guarda Guarda Sta già finendo mangiato Aiuto Guarda gli altri serinichi Ok Sta già finendo mangiato Dimmi dimmi Io ti ascolto No perché comunque Abbiamo la filosofia mia di vita Di pace e amore Che non va bene Però ascolto tutti i tuoi consigli Quindi proponi Dimmi Direi che prima di evolverci Quindi perché tu più mangi Più ci avviciniamo alla fase successiva Direi che è il caso Di trovare parecchi frammenti Perché così poi Nella fase successiva Ok Mi sto incasinando Possiamo fare una specie fighissima Cioè non vorrei farlo bruttino Capito Una volta che cresce Possiamo farlo fighissimo Ma avevi visto che la cesta sotto di noi Con la cosa nera Sì Mi sta facendo un'impressione incredibile Anche in questa zona Vedi che c'è un tipo che Sembra abbastanza intenzionato Alle sette È cattivissimo Ci vuole a mordere le chiappe Guardalo Ma abbiamo il pungiglione L'abbiamo colpito noi eh Guarda eh Vedi Hai fatto bene a mettere il pungiglione Nelle chiappe Lo so Lo so Perché tanto sapevo Che avrebbero cercato Di fare queste cose Vai serenichi Schiva tutto Vai Aia Ti sta distruggendo No Ti ha ucciso No è morto Sei morto C'è un frammento L'ho preso Come avevo fatto a non morire Non lo so Vedi che l'ho ucciso Ma rimane il cadavere Ah perché lo mangia nei carnivori Esatto Io direi di chiamare il creatore Attenzione attenzione Non abbiamo un attimo di fatto No 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 Ci ha silato Ci ha silato È una guerra È una guerra Ci ha appena silato Ti buco l'occhio L'hai visto Parla quello che voleva fare Le cose pacifiche Parla lui No ma questa è sopravvivenza Eh sì Certo Certo Ti com'era lontanarti Non ti vedo molto messo bene No guarda È quasi morto Ci stai facendo Sì ce l'ho fatta Frammento Frammento Jet La velocità La velocità Che figata Ok chiamiamo il nostro partner Prima che mi ammazzano Scusate Fate attenzione Mi voglio non mordere le chiappe Guardali Eh forse gli piacciono Le nostre chiappette Eh sono belline Ciao Che bellini che siete Andiamo dal partner E facciamo Guardalo Eccolo È troppo bellino Ciao Si danno i bacini Ma li hai visti che si danno i bacini Allora come ci potenziamo Ce ne manca uno Ok Dobbiamo riuscire nella nostra impresa Di prendere anche l'ultimo Allora Più aculei sicuramente No questi li vendo per ora Perché io voglio al 100% il jet Qua Ok E io voglio anche quelle Non lo possiamo fare Costa tutto Allora c'è il veleno e l'elettricità Io volevo l'elettricità Ok Allora basta che vendiamo questi E ce li mettiamo così Guarda Ma secondo me ci servono anche degli aculei No perché l'elettricità Adesso te la faccio vedere Ok Esteticamente va bene Non mi piace Ma hai cambiato O è normale No è normale Ok 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 Perché non vediamo la sua Allora fidati di me Ok No secondo me ci voleva anche qualche aculeo Guarda Come fai Ma è bruttissimo È bruttissimo Poverina Guarda come siamo veloci però Ok almeno siamo veloci Però vedi adesso come li punti Così Hai visto? Eh ma devi aspettare che ti si carichi l'elettricità Secondo me non è una buona idea Non avere neanche un aculeo Guarda Vedi Eh ma non gli fai così tanto danno Eh lo so Anche io pensavo di fare più danno Cosa sta succedendo? Ci stiamo evolvendo Oh che cos'è quella cosa? Eh il cervello Gli è capito? Gli è spuntato il cervello Gli è spuntato Il cervello di Ferinichi Nella specie di Sterinichi Non ci provare Guarda Comunque Congratulazioni Lo volevo leggere Va bene Non me lo fai leggere Leggi questo vai No vabbè Non è niente di che Ci sta avvisando Che possiamo passare Alla fase Ma senti che bellino Quando si tratta di nuotare Nell'Iquame La tua abilità non ha pari Grazie È un complimento Io pensavo fosse acqua Invece la L'Iquame L'Iquame Sì è un po' più schifoso In ogni caso Abbiamo finito questa prima fase Credo che possiamo comunque Andarcene in giro anche così Esatto Scusa direi che non ci conviene Trovarlo E poi andare nella prossima fase Così poi Sì Quando siamo più grandi Abbiamo tutti i frammenti Esattamente Perché questi non li possiamo Più recuperare Perché adesso Possiamo tranquillamente Diventare Di quelli che camminano Come ci possiamo chiamare Una specie che cammina Ti piace? Una specie con un cervello Che può uscire fuori dall'acqua Esatto Lo diceva anche alle scritte Che tu non hai voluto leggere Però ci manca un frammento E io lo vorrei prendere Dai Sì l'abbiamo trovato Ultimo Ultimo Pezzo di meteorite Ultimo frammento È una proboscide Permette di mangiare Sia la carne Che la verdurina O le aghe in questo caso Sono felicissima Siamo riuscite a completarli Guarda Avevo anche perso le speranze Perché ci è voluto davvero Un sacco di tempo Per trovarli tutti Ma sono felicissima L'abbiamo completati E siamo pronti Per procedere alla prossima fase Dovevamo farle bene le cose Assolutamente sì Andavano fatte bene In ogni caso Prossimo episodio Ci spostiamo nella terraferma Avremo le nostre gambine Potremo iniziare a camminare E si farà sul serio Stere e Niki dovranno iniziare A portare pace e amore nel mondo Io proporre una cosa Ok Consigliateci un modo Un modo di fare La nostra specie più carina Perché Steph è negato È negato Quindi dateci qualche consiglio Su che potenziamento mettere Perché magari c'è qualcosa Che può essere carina Per quando andiamo nella terra Esattamente Beh ragazzi Il video piace così Se vi è piaciuto Ascettici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Ciao